Io sto seguendo con attenzione, vediamo quello che succede, sono molto attento all'evoluzione politica, lo ripeto, io faccio il sindaco di Napoli, quindi un mio impegno personale nelle politiche non ci sarà. Se dovesse arrivare una proposta di costruzione di un'alternativa su un programma veramente innovativo e forte che cammina su gambe che si presentano per entrare in partilamento e guidare il Paese caratterizzate da credibilità noi, non parlo come Luigi De Magistris, ma noi come Movimento DEMA guarderemo con attenzione a questo, allo Stato, io come abbiamo parlato poc'anzi con le altre interviste, sono proiettato esclusivamente sulla città e anche ieri che sentivo nell'area romana, tra Montecitorio, Palazzo Chigi, parlare solo di legge elettorale e politiche io ero proiettato a partare a casa dei risultati per far ritornare Napoli ad essere capitale. Questo è il mio obiettivo politico.